Siamo qui con Walter Nenci al FIPILI Horror Festival 2015 che propone in questa ultima giornata di festival lo spettacolo Il Visionario. Allora, ce ne vuole parlare, vuole anche dirci come ha deciso di impostare lo spettacolo e come è rappresentare questo spettacolo a riborno al FIPILI. Innanzitutto buonasera, si è uno spettacolo che nasce prima di tutto dall'esigenza di porre subito una base di sincerità, cioè quella di farlo su uno sgabello, proprio perché esprime la mia stanchezza animica e corporea degli ultimi tempi. È un monogolo che va a trattare iniziando dal mio primo giorno di nascita, dove dimostro già di avere idee controcorrenti. Poi lo spettacolo si sviluppa andando, sempre parlando in prima persona, e andando a sperimentare le varie opportunità che ti dà questa società, che può essere quella del lavoro, quella della chiesa o quella del divertimento, fino poi a decidere che niente mi gratifica più di tanto. Nel corso degli anni, insomma, dopo averle sperimentate un po' tutte, è venuto fuori poi l'esigenza di dire alla Vasco Rossi, «Basta, vado in Messico, vado al massimo, vado a gonfie vele». E da lì racconto la mia esperienza con gli indios messicani che ho avuto una ventina di anni fa. Dopodiché affronto il tema dell'amore liquido, della società liquido moderna, come viene presentata da Bauman, e di questo amore, di queste relazioni che non sono più tali, ma sono diventate più che altro connessioni, rapporti virtuali, dove soprattutto poi i rapporti reali vengono contaminati da quelli che sono i codici dei rapporti virtuali. Per poi chiudere dando, non un messaggio perché è una cosa che non mi interessa, però per quanto riguarda me in prima persona, quello che voglio fare io e quello che vorrei che fosse l'impostazione di una società che invece di credere in una speranza incerta, come ci viene propinata negli ultimi tempi, si affidasse almeno una volta a una lungimirante visione. Tema che quindi va a spiegare un po' il titolo dello spettacolo. Senta, noi siamo qui a un festival del cinema, è stato fatto anche un concorso letterario e lei propone un'opera teatrale, perché? Perché il palco del FIP lì, oltre che a proiettare, è anche un palco teatrale. Io mi domandavo, dato che molte volte si vede film trasposti nel teatro e opere teatrali che vengono poi trasposte sul grande schermo, secondo lei cinema e teatro hanno un qualcosa che li unisce? C'è un anello di congiunzione e può funzionare questa unione? Un anello di congiunzione credo che ci sia, per il fatto che comunque entrambi nascono dall'esigenza di comunicare qualcosa, spesso e volentieri riguarda proprio bisogni, esigenze interiori di chi le vuole esprimere. I linguaggi sono completamente diversi, tante volte il cinema ha provato anche a proporsi mantenendo proprio quella che era la struttura teatrale. Comunque la storia di entrambi i campi dimostra che possono essere intercambiabili, insomma, e credo che sia una buona cosa, anche perché ormai siamo entrati negli ultimi anni nella contaminazione artistica delle arti e credo che questo sia arricchente per tutte. Senta, il suo teatro, il suo modo di fare teatro, a chi si ispira? Da cosa viene influenzato? In particolar modo dei grandi autori teatrali del passato? Lei, a chi è più affezionato o da chi ha tratto più ispirazione? Una domanda che non mi hanno mai fatto. Non è facile rispondere. Il mio poi alla fine sono testi di denuncia, ma non una denuncia solo sociale o comunque esteriore. È una denuncia che riguarda poi il rapporto con se stessi e l'esigenza che io sento quella di conoscersi sempre meglio o comunque di più di quello che la società ti vuole insegnare. Perché questo secondo me è la prima base per poi poter migliorare le cose a livello di collettività. ti posso dire che il mio primo spettacolo, si parla degli anni 90, fu una trasposizione teatrale del programma radiofonico Jack Folla, che era un DJ nel braccio della morte a pochi minuti dall'esecuzione e intervallava pensieri e musica per tutto lo spettacolo. E credo che quella matrice mi sia rimasta dentro, perché negli ultimi anni ho scritto tre spettacoli e bene o male con le differenze che ci sono, ma hanno un po' ricalcato questo tipo di matrici. Senta, le faccio l'ultima domanda. Lei fa teatro, quindi vive in un mondo in cui il teatro viene visto in un modo particolare, perché sembra a volte che il teatro abbia una sfumatura quasi di vecchio e di antico. In verità, se uno va a vedere un'opera a trattare, è quella che poi nota subito una grande energia, una grande vitalità, perché citando un po' di Aviator Discusese, Kate Blanchett diceva che il teatro è qualcosa che si vive. Attori in carne e ossa sono davanti a te e si muovono. Al contrario del cinema, che sì, è vero, vedi delle persone, vedi degli attori, però è tutto attraverso una seconda lente, la lente soggettiva del regista che ha realizzato l'opera. Secondo lei, il teatro al momento, che periodo sta vivendo? Un periodo d'oro o un periodo magari in decadenza, perché il pubblico non è più appagato dal teatro oppure non è più interessato dal teatro? Il teatro, secondo me, sta vivendo un momento difficilissimo, se si parla di seguito. Purtroppo il teatro ha un linguaggio che rimane lontano da quelle che sono poi le nuove pulsioni della società attuale, cioè quella della velocità, della virtualità e di tutto ciò che porta un'incapacità di concentrazione. Quindi spesso e volentieri il pubblico ne rimane distante. Ma le produzioni teatrali degli ultimi anni che io ho cercato di seguire, pur dandoti ragione sul fatto che ormai ha un'immagine non sempre ma spesso di vecchiume, invece propone cose molto anche post-moderne. Il problema è il pubblico se ha voglia o meno di mettersi nella condizione di partecipazione attiva e credo che questo sia un grosso problema perché il teatro, come dicevi te, dà una grossa possibilità a livello di vissuto di energie all'attore che è sul palco, ma l'attore ha bisogno del pubblico e il pubblico diventa parte attiva nel momento che c'è la pièce teatrale. Il problema è che tutto il resto che ci circonda spinge verso un'altra direzione. Comunque, io ho fiducia ancora in questo linguaggio. Mi auguriamo di avere ragione e ricordiamo a tutti che Walter Nance ha presentato al PPL il visionario, gli auguriamo in bocca al lupo anche per i prossimi progetti e se potete andate a vedere gli spettacoli di Walter Nance. Grazie mille.